e rieccoci qui caro testa di caso torniamo in diretta sempre con radio science sempre alla giornata delle idee di mantova e oggi abbiamo conosciuto tania tantissime persone dalla musica alla cultura all'arte a l'assessore tra l'altro abbiamo conosciuto persone che trattano anche temi belli impegnati insomma abbiamo visto tante tante realtà differenti e adesso ci siamo fermati a a voi generazione boomerang come c'è scritto qui raccontami un pochino chi siete e soprattutto voi che iniziative state portato state portando avanti ciao tania perché poi sono andato spedito come un treno anche troppo sto correndo non so perché fai bene va bene con boomerang allora noi siamo una compagine di partenariato molto varia il distretto sociale di mantova quindi 15 comuni del distretto di mantova arci mantova solco mantova che il consorzio delle cooperative sociali di mantova promo impresa borsa merci che è l'azienda speciale di camera di commercio il liceo belfiore e csvm sede un bel po di di siamo dei soggetti tra l'altro abbastanza grandi che hanno pensato di proporre a fondazione cariplo questo progetto per sollecitare spronare i giovani del nostro territorio a non lasciarlo a valorizzare il loro percorso professionale personale eccetera nel nostro territorio rimanere qui e magari cambiare mantova e farla più young friendly giusto è anche perché effettivamente questa come molte città forse risente anche no cioè come tipologia di città storiche non solo non avendo un'università credo può avere dei problemi in cui appunto i giovani vanno via e quant'altro questa iniziativa effettivamente può aiutare in qualche modo no il boomerang stavo leggendo prima che l'idea è semplice leggo pari pari perché almeno questa se non ti piace cosa c'è nella tua città spiegaci cosa vorresti che ci fosse mostra a tutti cosa dovremmo copiare ti pagheremo un viaggio in tour per l'europa per andare a copiare l'idea migliori di portarla a casa che è una cosa geniale cioè adesso non so se hai avuto a tu questa idea o chi per te però veramente è qualcosa che non ho mai visto nessun'altra parte almeno in italia no e quindi io non posso far altro che parte farvi un applauso e poi spero che quest'idea venga anche copiata o esportata anche in altre realtà sì il principio è che la nostra nostro territorio si sta svuotando e quindi se si svuota di giovani vuol dire che non ha prospettiva futura noi invece vogliamo che ritorni ad essere una meta anche per i giovani questa è una delle nostre diciamo attività che dovrebbero coinvolgere di più i giovani ovviamente speriamo che i giovani partecipino soprattutto con cose molto fattibili concrete speriamo che si proponga qualcuno che ci dica non voglio andare a Londra perché grazie a Londra trovi tutto a Berlino trovi tutto vogliamo dei giovani che proponga attività e posti che siano simili a Mantova certo certo e quindi sia più facile poi lavorare per concretizzare la proposta sì anche perché vediamo a Scandinavia ci sono dei posti che credo possano offrire no pensavo a luoghi d'Europa che poi si parla di Europa che effettivamente sono anche avanti da certi sotto molti aspetti che anche come grandizze di città non sono così enormi come magari altre realtà e quindi veramente è tanta roba Boomerang è un'iniziativa un concorso di fatti poi Boomerang invece che è il progetto che comprende più attività e si va dal lavoro al credito al microcredito al credito per il futuro tarato sui giovani alla scontistica alla casa e poi alla socialità e all'alternanza scuola lavoro a cittadinanza attiva sono una serie di attività che noi vorremmo più diciamo più partecipate dai giovani e tra l'altro sempre quindi legate ai giovani e da quello che mi dicevi adesso in queste iniziative quindi adesso mi soffermo a generazione Boomerang e noto anche che vedo robe anche pratiche immediate pensando a magari l'aiuto per prima casa non so che altro e magari sai Boomerang è un concorso che magari vedi nel medio e lungo periodo devi fare questa selezione, devi vedere i ragazzi, spedirli e poi torni indietro con le idee mentre tutte le altre iniziative sono già cose che state facendo e mandando avanti cose ma anche che si vogliono migliorare perché molto spesso cosa succede? chi fa servizi, chi fa progetti parte dal proprio punto di vista e non considera che magari i ragazzi o il destinatario ha altre idee quindi comunque sono proposte passibili di qualche cambiamento, qualche variazione hai visto via col vento? Adesso vedi Rossello Ara che ti esce fuori per dire quanto siamo all da manto esatto vedete una incitazione no guarda mi è fatto veramente piacere conoscere anche perché vi passavo sempre davanti come dicevo prima nel fuori onda però effettivamente è una grandissima iniziativa al di là del concorso anche quello che fate con generazione Boomerang quindi ci fa piacere avervi conosciuto qui in questa bellissima location che è quella del Lungolago anzi saluto, salutiamo gli amici della Zanzara che ci stanno ospitando in qualche modo e anche all'associazione Art Life che appunto organizza, se mi sbaglio, la giornata di l'idea che ovviamente ci sta dando tante soddisfazioni proprio in termini di idee e di conoscenza, cultura e vedere che non si è sole a questo mondo ci sono tantissime realtà vere, concrete, tangibili se vogliamo che stanno facendo bene io vi faccio anche complimenti perché non vorrei sbagliarmi ma ho conosciuto l'assessore mi sembra da quello che vedo poi magari mi sbaglierò ma per quello che riguarda le politiche giovanili chiaramente non entro nel merito di tutto quello che fa è molto sul pezzo e gli ho fatto anche complimenti per tutte le cose che mi ha elencato poi non so se siamo tutte a fare il suo sacco o meno però mi sembra veramente credo che sia un soggetto all'interno del comune col quale si può dialogare, parlare e che può sostenere anche l'idea quindi credo che questa cosa se in manto avrà un cambiamento come voi prospettate nel medio o breve periodo credo che sia anche per metodo i soggetti che vi danno una mano dall'altra parte che a volte alzano i muri a volte invece forse non riescono ad aiutare mi auguro veramente intanto guarda c'è anche dall'esterno la social io ti ringrazio per questa chiacchierata ci hai dato un po' qualche indicazione mi dispiace che vi ho incrociato che sono venti alla fine della giornata e sono stremato ma penso come tutti io come di consueto facciamo una foto per così immortalare questo momento ce l'ho io ce l'hai tu quindi appoggiamo i microfoni Tania teniamo questo così che così si veda grazie a tutti